Cinque Ferrari, una Maserati, una Aston Martin, una BMW e due moto, oltre a diversi immobili per un patrimonio complessivo superiore al milione di euro. Un tesoretto di tutto rispetto, quello messo da parte in quattro anni di truffe e raggiri, compiuti tra le province di Pescara, Chieti e Teramo, da un 45enne originario proprio di Chieti, smascherato oggi dalla Guardia di Finanza di Pescara. Si spacciava per dipendente di Equitalia e poi si faceva consegnare somme di denaro, in molti casi anche ingenti. L'inganno funzionava benissimo, sfruttando da un lato l'ingenuità delle sue vittime e dall'altro la condizione psicologica di persone preoccupate per i propri debiti. Avete problemi con Equitalia? Ci penso io ad aiutarvi. L'uomo esordiva sempre così e nel giro di poco tempo riusciva a conquistarsi la fiducia delle sue vittime. Il passo successivo era quello di farsi consegnare il denaro dietro il rilascio di verbali e carte che attestavano, per esempio, la cancellazione di un'ipoteca. Documenti in tutto e per tutto, uguali a quelli emessi da Equitalia, ma in questo caso ovviamente falsi. Coinvolta nella vicenda anche la madre del 45enne, che dovrà ora rispondere di riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza delittuosa. L'uomo invece è accusato di truffa, tentata truffa ai danni di Equitalia e le casse dello Stato, per i mancati introiti, oltre che di falsità in atti e di sostituzione di persona. L'uomo invece è un'ipoteca, tentata truffa ai danni di un'ipoteca.